Stiamo facendo un esempio pratico che se vai in Brasile c'è la samba o il samba se vai a New Orleans c'è il Dixieland, se vai che ne so in Spagna c'è il flamenco se vieni in Romagna c'è l'Alzer, la Mazzucca e la Polca e allora un in bocca al lupo per gli appassionati della tradizione romagnola in Brasile 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 in Brasile